Il problema è quando entrano poi in argomenti dove non sono pronti e lì devono avere un aiuto, devono avere qualcuno che gli spiega. Questa sera alle 20 alle scuole elementari di Gerra si terrà invece. Buongiorno, sono Gian Paolo Bernasconi, oggi è il 3 marzo 2016. Volevo dire, non fate conto se non contate sul numero di contatti che io ho su YouTube e su Facebook, perché i contatti sono bassi, però bisogna dire che la polizia postale controlla chi va sul mio canale YouTube e su Facebook, ed è per quello che i contatti sono bassi. Come diceva io a Joseph Stalin, l'uomo totalitario russo, non conta tanto il numero dei voti, ma conta chi conta i voti. Cioè praticamente Stalin era un piccolo truffatore. Quindi contavano i voti, schiavano una cifra sbagliata e risultava, la persona risultava aver avuto pochi voti o tanti voti a seconda della volontà di Joseph Stalin. Grazie.